Una partita dura, come del resto e tutte le altre di questo campionato tirate, ormai ogni avversario che viene a incontrare la capolista ci mette sempre cuore e grinta. È sempre più difficile, è lunga, però con una squadra e un gruppo così forte e unito tutto diventa più facile a stare insieme e nonostante una brutta partita oggi abbiamo portato a base i tre punti che è una cosa importante. La prima arma in più che abbiamo è il nostro attaccante che purtroppo oggi si è leggermente infortunato, senza di lui saremo probabilmente un po' più in difficoltà di dove siamo adesso in classifica e grazie a lui ancora oggi che ha segnato l'1-0, importantissimo, abbiamo fatto a base i tre punti e abbiamo difeso fino alla fine e questo l'abbiamo fatto in 11, quindi merito a tutta la squadra e anche alle riserve che sono entrate dopo, che il gruppo ormai non è, non sono 15 in campo, sono 18 e questo è quello che conta. Adesso sguardo alla prossima che è un'altra battaglia. Grazie a tutti!